Le recenti gare d'appalto per i contratti nell'indotto della raffineria Eni hanno posto l'esigenza di rivedere la collocazione di almeno 22 operai che sono ancora le dipendenze dell'azienda Puccio Impianti. Sono però destinati a transitare in altre società che hanno ottenuto i contratti per la coibentazione e i ponteggi fino ad oggi affidati proprio a Puccio Impianti. Si è già tenuto un primo tavolo coordinato da Sicindustria e 22 operai sono a tempo indeterminato e verranno ricollocati nelle società che hanno ottenuto l'affidamento dei lavori. Gli imprenditori avrebbero già dato una disponibilità di massima in una vicenda che viene eseguita a livello sindacale sia dalle segreterie di categoria che da quelle confederali CGL Cisle Will. Per i ponteggi i contratti sono andati per una quota allati composta da Tess e dalla romana Sicoi mentre per l'altra la Medi Group. Le coibentazioni invece sono state ottenute da Rive e Mariani e dalla TCD. Per i 15 ponteggiatori e per i 7 lavoratori delle coibentazioni dovrebbe esserci una ricollocazione non appena l'attività della Puccio Impianti sarà conclusa almeno per i comparti interessati dai contratti assegnati. Valutazioni verranno fatte anche per eventuale personale non a tempo indeterminato o comunque per quello collocato nella lista di disponibilità dell'indotto che spesso ha fatto molto discutere. Bisognerà comunque valutare le esigenze lavorative e la mole di attività da svolgere sempre su commissione di raffineria. La fase delle gare d'appalto era tenuta sotto stretta osservazione dai sindacati anzitutto nell'ottica di mantenere livelli occupazionali nell'indotto senza un eventuale taglio del personale soprattutto se è locale.